Il Centro Musica cambia casa e nasce 71 Music Hub, il nuovo polo di via Morandi dedicato alla musica. Sei un musicista? Hai una band? Vieni al 71 Music Hub. Potrai trovare corsi di formazione, partecipare a progetti di promozione e produzione, uno sportello di consulenza su SIAE e MPALS diritto d'autore e contratti. Un hub dove lavorare ai tuoi progetti musicali e video. Mr Music 5, sale prova per suonare e registrare in presa diretta e LOF, un locale dedicato alla musica dal vivo che puoi affittare per i tuoi concerti. Siamo aperti tutti i giorni, ti aspettiamo! Grazie a tutti!